yuk 43 16 allora hai bisogno di denaro? noi possiamo aiutarla in poche parole possiamo andare in banca a richiedere un prestito poi mi è arrivata un'altra email subito dopo abbiamo bisogno di autotrasportatori autonomi cosa vuol dire autonomi ragazzi che noi stessi per cui siamo alla ricerca di autotrasportatori esperti con mezzi propri offriamo prezzi completi ragazzi offrono fino a 5400 euro per trasporto prego si risponde di mezzi propri rivolgetevi direttamente al nostro magazzino a frankfurt am main frankfurt a frankfurt ragazzi si è un è una città pugliese deve essere comunque fuori d'italia ma è una città con il nome pugliese a frankfurt capito? che hanno rubato furto hanno rubato a franco vuol dire per cui vedremo prima di tutto andiamo in banca banca o la? uuhu offerta e prestito possiamo richiedere 100.000 euro o 400.000 euro però 400.000 euro non è selezionabile 100.000 euro invece? azz ci danno 100.000 euro si ma dobbiamo ridarne 2887 euro al giorno ma voi siete malati di cucuzza? vabbè ragazzi accettiamo stai chiedendo un prestito di 100.000 euro periodo 35 giorni interesse il 18% rata giornaliera 2887 euro confermiamo neanche a 35 mesi ragazzi a 35 giorni vabbè vabbè abbiamo 105.000 euro per cui andiamo dai rivenditori 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 dum dum andiamo a questo qua acquisto online non posso farlo perché potrei acquistare senza andare fino lì ma ancora non sono nostri non sono fiduciosi visita il concessionario yeah e andiamo ad acquistare il nostro camion on allora 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 bei ragazzuoli abbiamo questo qui sempre della marca Ivedo a 92.000 euro mi sembra un po' troppo per i miei gusti proviamo ad andare avanti con le frecce yeah questo qua ci costa la bellezza di 132.000 euro per cui meglio andare via dove ci sta portando dove ci sta bianco 103.000 euro ce la facciamo anche 4x2 active space guida sinistra 450 cavalli bla 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 di qua di là questo qua ragazzi consuma una cifra spenderò più di benzina questo qua 183.000 euro ragazzi 560 cavalli però costa una beata cavola di tanto 127.000 200.000 152.000 e torniamo al primo bene ne abbiamo due da comprare ragazzi no questo è giallo che bello color oro ma costa troppo abbiamo un bel 92.000 o quello da 103.000 ragazzi io comprirei questo qua giusto per iniziare bene io sarei proprio intenzionato ragazzi ad acquistare questo però stavo leggendo che è Univedo Stratus Active Space cosa vuol dire Active Space per chi non lo sa sapete che io sono intelligente su tutto allora Active Space ragazzi vuol dire che se noi premiamo la barra spaziatrice Space ci fa bere l'Active mentre siamo in guida e l'Active ci tiene ci snellisce la vita per quello vuol dire quella cosa lì bene possiamo fare acquista o se no personalizza configurazione cosa vuol dire ahhh possiamo aggiungere le cose nostre si gli interni gli interni ahhh questo qua è quello standard se no possiamo fare lo standard UK gli altri sono bloccati a livello 12 si sbloccano gli altri che fighetola cosa cambia tra questo e questo ahhh la guida destra ragazzi la guida destra all'inglese ehhh se prima mi ribaltavo così normale figuriamoci con la guida destra bene lasciamo tutto così com'è come l'è però ci sono altre cose tipo colori di base possiamo cambiare il colore con 2600 ragazzi che colore lo prendiamo bello colore oro no però un bel colore cacca non c'è che colori ci sono oh vai giù mazzo mi devi fare incazzare ah questi costano di più come mai come mai costano di più ue rosso rosso fuoco si si rosso fuoco merda cacca come lo prendiamo ragazzi o bianco o color oro rosso dai rosso conferma conferma no che pirla conferma il pirla conferma conferma il pirla allora la cabina la cabina abbiamo solo quella perchè le altre sono ah perchè è active space poi ci sono gli altri modelli ma sono ancora bloccati il telaio c'è solo quello il motore c'è solo quello poi abbiamo gli accessori che accessori ahzzo possiamo proprio modificarlo a modo nostro ragazzi che fighetola qua cos'è eeeh addirittura non ho capito un cazzo bene andiamo così lo acquistiamo ragazzi e ci mettiamo subito in carreggiata acquista grazie per aver acquistato ragazzi ma è partito il prestito e sono cazzi ameri però abbiamo il nostro furgone e non ci fotte più nessuno adesso è tutto nostro guardatelo in tutto il suo splendore quella questo è il nostro garage se vi ricordate ok ci sta portando proprio nel garage si vabbè entra nel garage poi ci ritroviamo nel camion ragazzi il nostro camion sempre con un posto libero poi mi avete detto che è con H c'è il clacson bene allora cosa dobbiamo fare dobbiamo fare che lo accendiamo ah non ho ancora montato il volante ragazzi appena monterò il volante tranquilli metterò anche la webcam come mi avete consigliato allora cerchiamo di non spaccarlo perché è nostro prima di tutto vai indietro cerchiamo di uscire dal garage prima di fare danni ok stiamo uscendo bene andiamo ragazzi a lavorare che ne dicete voi che ne dicete voi come si fa ad andare a lavorare da qui come si fa F1 vediamo un po' ragazzi se io volessi abbiamo il pieno di benzina wow se io volessi andare a lavorare qua cos'è hai un navigatore satellitare chiamato ma che me ne fotte a me il tuo stato ma che me ne fotte ma vai via allora no ho abilitato gli aiuti ragazzi come faccio ok se io volessi andare a lavorare adesso non hai merci da trasportare prossima sosta riposo fra 7 ore chiama l'assistenza no non ci sono messaggi ah andiamo sulle mail andiamo sulle mail e andiamo proprio a trovare questa persona qui a Frankfurt come si fa appunto come si fa come faccio ad andare a Frankfurt bisogna andare sulla mappa come si va sulla mappa orca logia orca vacca da qua offerte di lavoro no andiamo alla mappa eh Milano Torino Frankfurt eccolo qui dobbiamo andare qui per cui potremmo andare tranquillamente almeno che noi non attiviamo proprio un lavoro come faccio ad abilitare ragazzi a selezionare un percorso lo sapete per caso me lo dicete adesso non nei commenti perché se no come faccio vabbè ci penso mi andiamo in offerta di lavoro olea guadagna denaro per la tua azienda utilizzando i tuoi mezzi carica le merci e trasporta intatto ed in orario dato per cui ragazzi abbiamo anche l'orario eccetera allora Frankfurt Nordbank ah però noi siamo a Torino per cui toriamo Torino Milano Torino Milano Torino Milano che palle sempre Torino Milano Torino Milano in base a prezzi destinazione bla 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 ma se noi vogliamo andare in Germania a lavorare che ci danno tanto 5193 da Frankfurt a Nomburg 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 da Frankfurt a Nomburg bene ragazzi comunque sia in questo video abbiamo acquistato il nostro primo camion e scrivete nei commenti dove vorreste andare per il primo nostro lavoro senza freccia ragazzi questo è il nostro camion e non voglio fare incidenti proprio con il nostro camion e cosa volevo dirvi facciamoci un giro giusto per provare questa nuova bestia questo bestione freccia ho messo la freccia no la metto adesso con l'H la tonna ragazzi scusatemi stavo provando i tasti scusatemi però con la tastiera è difficile giocare a sto gioco non vedo l'ora di montare appunto il volante allora dicevando stavo suoniamo il claxon per provare la tromba abbiamo il pieno di benzina ah si mettiamo il navigatore F5 voilà lì c'è una officina a me non mi interessa l'officina vediamo un po' c'è traffico siamo a Torino se non mi sbaglio o perlomeno dovremmo essere a Torino guardate guardate ragazzi guardate Schumacher col camion Schumacher col camion dai dai oh dai sveglia sveglia madonna madonna danno 7% è stata colpa sua ragazzi è scattato il rosso all'improvviso io non me ne ero accorto bene torniamo in garage ragazzi che è meglio però vorrei vedere quelle cose azzurre cosa sarebbero andiamo a vedere dobbiamo andare a destra allora mettiamo la freccia andiamo a destra quando scatta il verde è scattato il verde no dai ok verde oh la vedete la freccia la vedete la freccia oh cacchio lola ragazzi in questo mondo in questa città solo punto ci sono ma porca loggia dai voglio andare a vedere cosa sono quelle cose azzurre ah posti letto forse mi sa che sono posti letto non so dove sto andando ragazzi oh ma ti togli ma porca loggia c'hai una punto e vai a 30 all'ora porca puttegna si ragazzi sono un po' stiletto per cui mi conviene tornare indietro mi faccio tornare indietro adesso qua me ne vado in autostrada io ah ok in fondo posso fare la rotonda tornare indietro perfetto meno mele meno mele no no piano 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 che è mio il furgono piano Luke piano oh ma ma dai ah ma di qua andiamo in autostrada pirla no siamo in autostrada orca loggia ragazzi e mo come torno a casa io mi dite come torno a casa vabbè ragazzi io mi farò questo viaggetto in autostrada anzi direi che mi assosto proprio qui aia sei 27% di danni che non c'ho soldi devo pagare pure il prestito pensavo di passarci e invece no mi metto qui metto le 4 frecce che non so come si mettono le 4 frecce ma ora ci proverò andiamo un po' quale tasto sarà per le 4 frecce fermati ci sarà un tasto per le 4 frecce no? azzo cos'è la G? vista tabelle vista mappa ah ho capito no ho capito un cazzo veramente ragazzi frankfurt qua dovremmo andare e lo scoprirò da Luke è tutto pollici in su al video come al solito ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.